Nonostante il momento di stasi che regna a Teramo i prossimi giorni potrebbero portare novità sul fronte societario. Condizione assolutamente imprescindibile per un progetto calcistico che riparta dalla salvezza conquistata sul campo dalla squadra e che ha già però portato Federico Guidi nell'elenco di possibili successori di Mirko Cudini sulla panchina del campo basso. La diaspora chiaramente va evitata, per farlo serve celerità, che tuttavia mal si concilia con una situazione che deve necessariamente passare dall'avallo degli amministratori che curano le sorti del club in questo momento. Anche il sindaco, già Guido D'Alberto, in un frangente del genere, ha lavoro a fare i spenti per capire quale possa essere la soluzione. Sabato scadono virtualmente quelle due settimane che Davide Ciaccia, dopo il match con la Reggiana, aveva dato come tempistica per trovare un sentiero d'uscita. I contatti con Giuseppe Spirelli non sono più un segreto, così come non lo sono quelli con le altre figure. Lo scoglio, tuttavia, rimane quello di costruire un piano assolutamente credibile che possa convincere la reggenza giudiziaria a dare l'avallo alla fase successiva. Non sarà semplice, non quanto sarebbe stato se ci si trovasse dinanzi ad una normale e consueta trattativa tra soggetti privati. I giocatori attualmente sotto contratto sarebbero 10, Jacoponi, Bellucci, Viero, Forgione, Cucurullo, Malotti, Trasciani, Chiere Matengo, Tozzo e Papaserio. In sostanza, manca completamente la spina dorsale della squadra che ha messo insieme 42 punti in 38 giornate di campionato. I contratti dei giocatori in scadenza andrebbero rinnovati, in caso contrario, comunque sostituiti da elementi di valore simile. Impegni imprescindibili per una categoria come la Lega Pro nella quale iniziare col piede sbagliato, la Viterbese di questa stagione insegna, può costare davvero caro. Il Teramo stava per pagare un prezzo salatissimo se non avesse cambiato marcia nella fase finale del torneo. Per questo il mese di maggio è decisivo per le sorti del club. Fare tanto e farlo velocemente è il mantra che rimbomba dalle parti dello stadio Bonolis. Tempo per le riflessioni o per le strategie. Adesso non ce n'è quasi più.